Presentato a Palazzo del Pegaso, Certaldo Arte 22, un cartellone di mostre ospitate al Palazzo Pretorio di Certaldo. La rassegna si è aperta sabato 9 aprile per proseguire durante tutto l'anno fino all'inizio del 2023. Sono tre gli artisti toscani scelti per le mostre, Luigi Montanarini, Giampaolo Talani e Claudio Cionini. È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori. Il Palazzo Petorio a Certaldo Alto, insieme alla bellezza di tutto il borgo, ospiterà collezioni di arte contemporanea. Un mix che rende bella e grande della Toscana, con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori, ma anche con la capacità di guardare al futuro. Sono davvero mostre da visitare. La mostra di Montanarini, che partirà sabato, poi quella di Talani, che ho avuto modo anche di conoscere personalmente, che racconta con occhio attento la Toscana di oggi. E poi un giovane, un ragazzo che avrà grandi prospettive. Ricordatevi questo cognome, Cionini. Credo che queste mostre rappresentano davvero bene quella che è la nostra idea. L'idea di partire dalla bellezza dei nostri territori e, grazie all'arte, alla cultura, attirare ancora di più visitatori e portare la Toscana verso il futuro. Quindi grazie al sindaco di Certaldo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ai curatori, perché davvero Certaldo ancora una volta si dimostra città della cultura. Le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio, che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi, che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. Ed è sempre stata la sua forza, quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante. Il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. Il Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Il percorso di quest'anno, realizzato con l'apporto di Exponent con la curatrice Francesca Parri, è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani, del passato e del futuro, a livello per farli ulteriormente conoscere, ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio e il borgo medievale. In più, in un percorso assolutamente convincente e coinvolgente, perché si rivolge all'arte del passato in qualche modo, ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti e alle esclusive anche artistiche che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto, che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita anche post pandemia e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convegnistica, la parte artistica e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre. Saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte 22, la prima sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 1966 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre perché strattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante che ad oggi non si vede più. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018. Conoscitissimo Talani. Qua a Firenze abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella a Freschi, datato 2006. Una cosa simpatica è il nome del titolo della mostra, Anima sola, Viaggio a Finisterre. Il titolo è stato scelto dal figlio Martino durante un sopralluogo a Certaldo Alto di qualche mese fa, perché il Palazzo Pretorio gli ha evocato, ricordato un dipinto del padre che è il Castello di Sabbia di Finisterre. Una cosa importante è che l'ultima mostra che ha fatto Talani risale al 2019 ed è una mostra importante fatta ai magazzini del sale di Siena. E l'unica mostra che sarà allestita di Talani nel 2022 è esclusivamente la mostra di Certaldo. Si chiude invece con Claudio Cionini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cionini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie, così come alle metropoli. Concludiamo dicendo che sono tre artisti, tutti e tre toscani, il passato, il passato prossimo, il futuro, ma in realtà sono tutti quanti con le loro opere ancora tutti presenti qua con noi. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, si è recato allo stabilimento della fabbrica dei Marroni di Marradi, ex ortofrutticola del Mugello. Ad accompagnarlo nella visita, i consiglieri regionali Cristiano Benucci e Delisa Tozzi e il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. L'azienda, nata nel 1984 su iniziativa dell'allora comunità montana del Mugello e diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio e per l'economia locale, a fine dicembre 2021 aveva rischiato la chiusura. Tra le varie azioni per scongiurarla, lo scorso gennaio era stato convocato il tavolo regionale dell'unità di crisi, Poi, la bella notizia, lo stabilimento di Marradi non chiuderà e sarà garantito l'intero trattamento economico ai livelli del 2021 per il 2022 e il 2023, ai 7 lavoratori a tempo indeterminato e ai 64 stagionali. Era un impegno che avevamo preso l'8 di marzo quando abbiamo premiato, il giorno della festa della donna, le lavoratrici di Marradi che hanno resistito e che sono riuscite a ridare dignità al lavoro. È stato bello entrare in fabbrica insieme ai colleghi Benucci e Tozzi, poter vedere che lo stabilimento è ripartito, è ripartito nel pieno delle sue attività ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di produzioni. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui, per dare l'ennesimo segno di vicinanza alle lavoratrici dell'ortofrutticola Mugello e per ringraziarle davvero per la loro battaglia che è anche la nostra battaglia. Tanti consiglieri regionali, io tra questi, abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili e oggi visitarlo alla ripartenza, quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi, noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è un motivo di grande soddisfazione per questa terra e per tutta la regione toscana. Una battaglia importante è quella delle lavoratrici della fabbrica di Marradi, è una realtà fondamentale per il territorio, questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva, speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa avere una prospettiva per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante, il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si parla di comuni come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Quindi auguriamo davvero che buona fortuna a tutte queste lavoratrici e speriamo davvero che questo sito possa continuare a mantenere la propria storia e la propria struttura. Si lavora guardando al futuro, è stato un periodo davvero drammatico per il nostro territorio, ora finalmente entrare in una fabbrica aperta con le donne e gli uomini che sono al lavoro da speranza. Ovviamente il lavoro, come si è sempre detto, non è finito, si continuerà a monitorare, guardiamo al futuro, ma guardiamo al futuro con la speranza di una fabbrica finalmente aperta. Inaugurata al Centro Expo di Palazzo del Pegaso, la mostra fotografica Voci di Libertà, i combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale, curata da Matteo Pretelli e Francesco Fusi. Come si evince dal titolo, sono esposte le immagini dei soldati americani di origine italiana che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno combattuto in Italia, terra dei loro genitori o dei loro nonni. La mostra, visitabile fino al 22 aprile, è il frutto di quasi dieci anni di ricerche negli archivi e nelle vecchie edizioni dei giornali, dell'incontro con veterani o con i loro discendenti. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina. I genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile. E tanti di loro, solo dopo l'armistizio, potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi. E credo che ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Beh sì, originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti, vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra, gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si volle dimostrare il proprio filoamericanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Sono ormai quasi dieci anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni e alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network, perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. Beh, i numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850.000. Poi furono svariate migliaia anche gli italo-ostraliani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici. Però, come dicevo, non è semplicissimo stabilire un numero esatto.